Siamo i campioni, noi! Siamo i campioni, sai! Avanti che si va, la folla scalpita per questo grande show! Oh 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 oh! A tutto gas, niente ci fermerà! Oh 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 oh! Correndo per la Breaking Raceway! Lottando come i campioni, oh oh! Siamo i migliori! Hot Wheels, noi siamo i monster tracks! Così e vai così! Non c'è chi ci sconfigge, vince chi si diverte! Hot Wheels, è la che aspetta noi! La Coppa dei Campioni! Oh 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 oh! Dominata niente! Vittoria! Vai Mega Rex, ma che rumore fai? Qua l'atmosfera si sta già scaldando! Si attacca Tiger Shark, fa Splash! Rai 6 segui, con la sua mossa farà un grande Crash! Siamo i campioni, noi! Siamo i campioni, sai! Lottando come i campioni, oh oh oh! Siamo i migliori! Hot Wheels, noi siamo i monster tracks! Così e vai così! Ehi oh 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 oh! Ci sconfigge, vince chi si diverte! Hot Wheels, è la che aspetta noi! La Coppa dei Campioni! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Lottando come i campioni, oh 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 oh! noi siamo i migliori Hot Wheels, noi siamo i Monster Trucks così e vai così non c'è chi ci sconfigge di c'è chi si diverte Hot Wheels, è la che aspettano voi la coppa dei campioni domina con nienta, chiede in forza Comino con niente, vittoria! difficilissime. Ehi là! Qualcuno ha intenzione di farci scendere? Ecco che arrivano i Monster Trucks. Ray Sales! Devo Derby! Tiger Shark! E... Bone Shaker! Chi tra di loro riuscirà a portarsi a casa la Coppa dei Campioni? Sarò io a vincere quella Coppa dei Campioni! Questo torneo è proprio il posto giusto per scatenare la mia furia! Nella prima sfida di questa Coppa dei Campioni abbiamo preparato per voi una gara di proporzioni epiche! Si comincia sfrecciando in mezzo a dei pericolosissimi alberi! Poi il ponte più traballante che abbiate mai visto! E infine una bella salita verso la vetta per arrivare al traguardo! Una gara di velocità? Sarà un gioco da ragazzi! sfrecciare il mio secondo nome! Eh... in realtà mi chiamo Ray Sales però... Sì! Sono sicuro che ce la farò! Spero che voi tre abbiate una ruota di scorta! Perché oggi sono pronto a vincere e a distruggere! Ah! Sono sicuro che vi saluterò dal traguardo! Tranquilli ragazzi! Potrete sfidarvi per il secondo posto dopo che avrò vinto io! Accetto la sfida! Che vinca il migliore! Cioè io! Ai vostri posti sfidanti! tenetevi pronti! Go big! Go hot wheels! Vai così! Sì! Questa gara sarà dura da affrontare! Ma ho qualche asso nella manica! Queste fiamme non sono solo disegnate! Sì! 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 Oh sì! 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 Va bene! Spreccia! E distruggi! Tranquillo, bello Non possono prendermi se non mi vedono Per tutti i motori, guardate cosa ha fatto Sembra che Bonshaker stia facendo un buon uso del suo teschio fiammante Merita di vincere? Io credo proprio di sì Fai così! Oh sì! Wow! È stato quasi troppo facile! Wow! Come sfreccio! Voi siete ancora lì dietro? Vai così! Eccomi qua! Ora posso vedervi tutti perdere mentre io guadagno la vittoria! Ma che cosa fa? Demo Derby è così sicura di sé che ha deciso di andare all'indietro Questo potrebbe rivelarsi un disastro o la vittoria più bella nella storia dei Monster Trucks Ci vediamo al traguardo, ragazzi! Sfreccia e distruzzi! Ehi! Aspettate! Ricordatemi di non provare mai più ad attraversare una foresta all'indietro Vai così! Un aiutino? Sì! Posso vincere! Andiamo, Boomshaker! Puoi farcela! Oh no! Ciao, coccodrillini! State buoni! Oh no! Sembra che l'unica corsa che potrà fare Boomshaker sarà quella che gli permetterà di scappare dai coccodrilli Mancano solo due sfidanti! È arrivato il momento di vincere! Io non ho paura dei coccodrilli! Sono un predatore! Ma non ho mica le ali! Come potremmo fare per raggiungere il traguardo? Oh no, gente! La gara finisce qui? Non ci sarà nessun vincitore della Coppa dei Campioni? Wow! Quei coccodrilli sembrano proprio affamati! Cosa succederà adesso? Eh? Ah-ha! No! Sono pronto! Ah-ha! Questa sarà la sfida più grande che abbia mai affrontato! Oh no! Non posso crederci, gente! Ray-6 ha usato il ponte crollato come rampa e adesso è in vantaggio! Oh no! Vai così! È stato fantastico! Ray-6 è partito e vroom! E Tiger Shark invece diceva no! E alla fine facevamo tutti... Oggi è stata davvero una gara spettacolare, piena di caos e distruzione! Tiger Shark e Ray-6 passano al prossimo turno! E ragazzi, parliamo di roba forte! Chi riuscirà ad affrontare il percorso del caos e a vincere la Coppa dei Campioni? Alla prossima, gente! Per un altro scontro pieno di distruzione! Non so proprio perché l'ho fatto! Amanti della distruzione, bentornati alla Coppa dei Campioni di Hot Wheels Monster Tracks! Manca solo un'altra gara prima di scoprire chi ha vinto la Coppa dei Campioni! L'ultima volta i nostri quattro finalisti si sono scontrati sulla mega montagna e hanno dovuto affrontare le acque piene di coccodrilli portandoci ai nostri ultimi due contendenti! Tiger Shark e Ray-6! Oh sì! Questi due Monster Tracks titanici si sfideranno in un testa a testa senza esclusione di colpi fino alla grotta del vincitore! Il primo che metterà le ruote sulla Coppa dei Campioni vince! Oh, quindi una sfida sulla montagna più pericolosa del mondo passando per una grotta in cui cadono massi? Tutto qui? Accetto la sfida! Sì! Forza! Oh sì! Forza, Ray-6! Cominciamo! Devi mettercela tutta e vincere quella Coppa dei Campioni! Cominciamo! Andiamo, Tiger Shark! Dimostra agli altri Monster Tracks cosa so fare un vero predatore! Vai, vai, vai! Ci siamo! L'ultima gara per vincere la Coppa dei Campioni! Ai vostri posti! Pronti? Via! Forza, Ray-6! Sì! Oh, fantastico! Mangia la mia polvere, Ray-6! Il più veloce sono io! Questo è quello che pensi tu! Arriva la furia! Oh no! Oh? Oh! Ah! Woohoo! Temete la furia! Ha proprio intenzione di vincere questa gara! Ray-6 è veloce! Ma non quanto la furia di Tiger Shark, gente! Ehi, Tiger Shark! Ehi, Tiger Shark! Ehi, Tiger Shark! Sai qual è il mio tipo di squalo preferito? Eh? Non lo so! Qual è? Lo squalo martello! Ok, lo ammetto! Era una bella battuta! Un grande cambio di marcia, gente! Ray Seiss mantiene la sua promessa ed è in vantaggio! Tiger Shark riuscirà a raggiungerlo o non ha più speranze? Ciao, ciao! Oh, fantastico! Una cosa incredibile! Avete visto anche voi, gente? Tiger Shark ci dimostra di che pasta è fatto! Se lo chiedi a me, non c'è gara! Ray Seiss ha la vittoria in tasca! No, no, no! Tiger Shark ha delle dote impareggiabili che possiedono solo i predatori! E poi, guarda quell'estriatore e andiamo! Non credo che tu abbia capito, Megarex! Forza, Tiger Shark! Sì! Mangerai la mia polvere, Ray Seiss! Nei tuoi sogni, Tiger Shark! Pes, spostati! Sapevo che sarebbe stato un testa a testa, ma così mi sembra un po' troppo esagerato! Cosa sta succedendo? Qui si mette male! Credo che la grotta stia a ver... Ho vinto io? Impossibile, ho vinto io! Ora come lo raggiungiamo, il traguardo? Questo sarebbe un muro! Non riesco a vedere niente qui! Ehi, quello cos'è? Mi è appena venuta un'idea! Ehi, e quale sarebbe questa idea? Chi ha vinto? Beh, immagino che siano rimasti spiaccicati! Io però accetto molto volentieri la Coppa dei Campioni al posto loro! Credo che siano bloccati! Forza, ragazzi! È il momento di fare quello che ci viene meglio! Distruggere! Oh, no! Questa cosa è troppo forte! Sembro persino più pericolosa di prima! Wow, guarda che bello! E con questa roba luminosa possiamo vedere! Credo di aver visto qualcosa! Vai così! È il momento di vincere! Ehi, aspetta! Quella Coppa è mia! Tutto questo è fantastico, ragazzi! Siamo a un passo dalla fine e questi Monster Trucks devono togliere di mezzo le rocce! Chi riuscirà a distruggere più macerie? Chi ce la farà uscire dalla grotta? E chi sarà... Che stai parlando? Che stai parlando! Dai! Quella caffa dei campioni sarà mia! Ah! Vai così! Oh, no! Oh, no! Dov'è finita? Accetto la sfida! Quella maschera di fango ti ha cambiato il look! Anche il tuo! Nuovi colori! Strano! Ma anche fantastico! Oh, per tutti i motori! È finita? È la fine della Coppa dei Campioni di Hot Wheels Monster Trucks! Ray Sace e Tiger Shark faranno una brutta fine? Chi porterà a casa la Coppa dei Campioni? E alla fine riusciremo a scoprirlo? Forza! Mettetecela tutta, ragazzi! Ci stiamo provando! Oh, oh! Dai! Bentornati alla Coppa dei Campioni di Hot Wheels Monster Trucks! L'ultima volta eravamo rimasti allo scontro testa a testa tra i due finalisti, Ray Sace e Tiger Shark, per guadagnarsi la Coppa dei Campioni. Ma qualcosa è andato scorto! Ray Sace e Tiger Shark sono rimasti bloccati in una grotta a causa di un crollo e non sappiamo se stanno bene e se qualcuno ha vinto! Ehi, sta attento! Potrebbe essere la fine? C'è la possibilità che non ci sia un vincitore? Avrà un lavoro dopo tutto questo? Oh, non ci posso credere a una tragedia! Ehi, amico, rilassati! Ce l'abbiamo quasi fatta! Oh, sì! Molto bene! Vaughn Shaker ce l'ha fatta! Veniamo a prendervi, ragazzi! Che cosa è stato? Non ero io! E allora che cos'era? Forse il mostro gigante della palude che è appena apparso proprio dietro di te? Qualcosa mi dice che questo non fa parte della gara! No, ma quella sì! È il momento di vincere quella coppa! Tiger Shark! Aspetta! Accidenti! stavo per vincere io! Se per vincere intendi essere schiacciato da un coccodrillo gigantesco allora sì! Ecco! Ora siamo pari! Ehi là! Ray Seis! Tiger Shark! Siamo qui per salvarvi! Avete trovato la coppa dei campioni? Per caso avete bisogno che ve la tanga io per un po'! Ma cosa c'è laggiù? È bellissimo! Sembra di stare in discoteca! Guardate! Non ci posso credere, gente! Potremmo essere a un passo dallo scoprire chi sarà il vincitore della coppa dei campioni! Possiamo solo immaginare che in qualche modo da qualche parte uno tra Ray Seis e Tiger Shark si sta crogiolando nella gloria di questa dolce vittoria! C'è mancato poco! Ero sicuro che fossimo spacciati! Sì! Voglio far vedere a quel coccodrillo di che pasta hai fatto un vero predatore! Ed è così che temerà la furia! da soli non riusciremo mai a sconfiggere questo coccodrillo gigantesco! Invece in otto potremmo farcela? Ma cosa succede? Quello è un coccodrillo gigante? Sono pronto! Sì! Questo coccodrillo ha fatto il passo più lungo della zappa! Sei sicuramente una bella vista per i fanali! Ehi! Dov'è la coppa dei campioni? Il coccodrillo l'ha mangiata! Ora gli facciamo vedere! Nessuno può inghiottire un trofeo e farla franca! Abbiamo un colpo di scena dietro l'altro! Non solo la coppa dei campioni è stata ingoiata da un enorme rettile ma le mie nuove scarpe sono rovinate! I Monster Trucks riusciranno a sconfiggere questo mostro gigantesco? Qual è il piano Monster Trucks? Ha mangiato la coppa dei campioni! Dobbiamo riprendercela! Ma come? Guardate la sua coda! Deve essere per questo che è gigantesco! Se qualcuno di noi riesce ad arrivarci si metterà male per questo coccodrillo! Ci penso io! Però dovete tutti guardarmi le spalle! Dobbiamo fargli guadagnare tempo! Come? Ho pensato a un modo perfetto per affrontare questo coccodrillo! Possiamo usare le abilità che abbiamo preso al campo scontri! Ok gente ci siamo! I nostri Monster Trucks stanno per utilizzare al massimo le abilità che hanno appreso insieme al campo scontri! Che la battaglia abbia inizio! Ok Monster Trucks sapete cosa fare? Go big! Go big! Sì! Oh sì! Andiamo! 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 Oh no! Come nella battaglia di vernice! Adoro questo posto! una maschera di fango ottima per la pelle! Cominciamo ragazzi! Spreccia e distruggi! Fai così! Il mio ruggito mi distruggerà! Arrivano le fiamme! non hai scampo! I miei occhi mi ingannano! I Monster Trucks stanno usando tutte le loro risorse! La battaglia di vernice e il tiro a segno è ora una folle corsa in stile ruba bandiera per riuscire a sconfiggerlo! Grazie squadra! Ora è arrivato il momento della furia! Ah! Ah! Ce l'ha fatta! Tiger Shark è diventato super gigante! Oh no! Oh no! Ah 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 ah! Arriva la furia! Ah! 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 Eccolo lì! Ma guardate che roba! La coppa dei campioni! Mega Tiger Shark è riuscito a tirare fuori la coppa dei campioni da quel coscodrillo! Ma questo Monster Truck super gigante riuscirà a sconfiggerlo davvero? Ah! È il momento di vincere! No! Temete la furia! No! No! non fai più il duro adesso eh piccoletto! Boo! Ecco a te ragazzone! Ce la sei meritata! Ce la siamo meritata tutti! Sì! E qui va! È meglio che la tenga al sicuro io! È stato uno scontro davvero epico! In tutti questi anni in cui ho assistito agli scontri dei Monster Trucks posso dire onestamente che è la prima volta che mi capita di vederne uno tra un mega Monster Truck e un coccodrillo gigantesco! Sono sicuro che questa coppa dei campioni entrerà nella storia! Ah! Ah! Va bene ragazzi! tutti insieme! Go Peek! Go! Upwind! Che giornata meravigliosa! Sì!